Da alcuni mesi anche il Comune di Termoli è entrato a far parte dei Borghi della Salute, un circuito internazionale che premia e valorizza i luoghi più suggestivi e le buone pratiche dedicate alla promozione del benessere e della qualità della vita, un percorso che sulle radici del passato intende costruire un futuro sostenibile e aperto a progetti innovativi. Sabato 16 e domenica 17 settembre Piazza Sant'Antonio ospiterà la prima festa della Mediterraneità, cultura, tradizione e salute in due giorni di iniziative. Un messaggio molto forte, Mediterraneità non tanto intesa come dieta mediterranea ma Mediterraneità che diventa stile di vita, che diventa educazione, conoscenza e formazione per promuovere la salute, il benessere e migliorare la qualità della vita. Attraverso che cosa? Attraverso i segnali, i valori e le virtù che la civiltà del Mediterraneo ci ha donato in tanti anni. Fitto il programma di appuntamenti, incontri tra gli esperti e salotto di esperienze, conviviali della salute con prodotti tipici, officina creativa con laboratori tra arti, mestieri e giochi della tradizione. Non mancherà l'angolo della salute con un presidio di prevenzione metabolica e consulenza psicologica e nutrizionale. Nordic Walking è emporio dei prodotti morisani e ancora spettacoli e stage di danze e musiche mediterranee e popolari. Ampliare il ventaglio dell'offerta turistica anche ai mesi che solitamente ne sono stati esclusi. Questo perché Termoli e il successo delle state termolese appena conclusa ce lo dimostra, Termoli è diventata davvero un punto di riferimento per un vasto territorio, non solo interregionale, nazionale ma anche internazionale. Tra le iniziative Luigi Dei Santi, sei giochi di strada, gruppo di pizzica e taranta, i gargaresi, etno danza, fontana vecchia, Francesco Scarselli e i suoi organetti, il maestro Marco D'Aloia e i suoi allievi di organetto, Monsier David e il suo teatro con i piedi. Grazie per la visione.